Mi chiamo Raffaella Vellanca, faccio parte della unità che si occupa di Climate Change qui a Roma al World Food Program e io in particolare mi occupo di accesso all'energia. Nella maggior parte dei casi questo vuol dire occuparsi di cucina, quindi cerchiamo di promuovere nei paesi dove lavoriamo delle cucine che siano efficienti, possano utilizzare meno legna, meno carbonato, e quindi avere un minore impatto ambientale e limitare la deforestazione, che abbiano meno emissioni perché il fumo che produce la cucina a lungo andare provoca problemi respiratori. È importante anche dal punto di vista delle donne perché cucinare, preparare la carbonella e poi pulire le pentole e poi andare a raccogliere la legna impiega tantissimo tempo che invece potrebbe essere impiegato per attività produttive, per studiare, perché poi vengono mandati i bambini ovviamente a raccogliere la legna. Ci occupiamo anche di guardare alla catena del cibo nella sua interezza, quindi dalla coltivazione alla trasformazione alla conservazione. Tutti questi processi richiedono energia. Un'applicazione particolare che mi sta a cuore è quella nei programmi di alimentazione scolastica in cui distribuiamo il cibo per i bambini della scuola ma anche dobbiamo occuparci di come questo cibo venga cucinato e quindi promuoviamo cucine ecosostenibili che devono essere per forza di cose diverse a seconda della regione del mondo in cui lavoriamo perché ognuno ha la propria tradizione culinaria.